Mi dica lei se questa è giustizia, cioè io mi domando, ci sono dei documenti piuttosto chiari, che parlano chiari, cioè che questo era drogato e alcolizzato. Secondo me è una gravissima ingiustizia. La rabbia e l'amarezza dei familiari dell'accompagno di Giovanna Santorelli, la 28enne aretina morta nella drammatico incidente dello scorso 20 aprile a Pinarella di Cervia. Il 22enne che travolse ed uccise la giovane, accusato di omicidio stradale, ha infatti patteggiato la pena a quattro anni di reclusione. Giovanna morta che nessuno ce la dà più. Il nostro futuro negato perché noi si stava pensando qui sopra l'appartamento, avevamo un normale sviluppo di vita familiare. Ecco, mio figlio che adesso è in un dramma psicologico enorme, in più ha un danno fisico non indifferente. Quindi quello che vorrei dire è questo qui. Allora, un dramma così grave, non comprendo come possa essere giudicato così lievemente. Erano le 5.58 quando il giovane, ubriaco al volante e a una folle velocità, dopo non aver rispettato uno stop, piombò sull'auto nella quale viaggiavano Giovanna, il fidanzato e un'amica. La ragazza, balzata a vari metri di distanza, morì poco dopo. Dei risultati degli accertamenti è poi risultato che il giovane era positivo all'etilometro con un valore di oltre 2 grammi di alcol per litro di sangue. Il 22enne è poi risultato positivo anche ai cannabinoidi. Questo è positivo ai cannabinoidi, quindi droga, e qui all'alcol, questo esame ospedaliere. Il calcolo della pena tra attenuanti sconti e valutazione del fatto, secondo i familiari, il compagno di Giovanna sarebbe ingiusta, troppo favorevole per l'automobilista che si trova attualmente ai domiciliari. Trovo che questo nuovo codice stradale che hanno introdotto sia una mossa esclusivamente politica, perché di fatto è una questione di facciata, perché se loro non tolgono tutti questi attenuanti, tutti questi modi per ridurre le pene, ma che esempio possiamo dare al popolo italiano? Grazie. Grazie.